Daniele Ghiotti, 28 anni, titolare di un'impresa di pulizie, vive a Nazzano con la madre e a due fratelli. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che il movimento sia l'unico strumento nelle mani di cittadini onesti e capaci per riportare nuovamente la politica a fare gli interessi dei cittadini e di questo la città ha assolutamente bisogno. Sogna con De Pasquale Sindaco di veder rinascere Carrara dalle condizioni in cui è stata volutamente gettata da chi ci ha governato per tutti questi anni.